Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista esperto in fitoterapia. Ma esiste un vero collegamento tra l'assunzione di latte vaccino, latte animale, latte di mucca, con i muchi. I muchi a livello dei bronchi, quindi questo sempre raffreddore, oppure con dei muchi a livello delle feci. Se andiamo ad osservare la composizione del latte vaccino, ci rendiamo subito conto che l'80% delle proteine del latte vaccino sono rappresentate dalla caseina. Mentre se andiamo a valutare la composizione proteica del latte materno, quindi il latte della mamma, abbiamo comunque la caseina per solo un 35%. E già qui nascono le prime perplessità. Ovviamente il latte vaccino, il latte di mucca, nasce per far crescere il vitello, che dovrà avere una crescita esponenziale nei primi mesi di vita. E quindi avrà bisogno di un forte apporto proteico. Dall'altra parte il latte materno dovrà far crescere il neonato, il bambino, ma non cresce in maniera esponenziale. Prenderà qualche chilo, ad esempio, nel primo mese di vita. Ora, questa grande concentrazione, quindi di caseina, che noi tendiamo ad assumere quotidianamente con il latte vaccino, il latte animale, in tutte le età, quindi non solo quando dobbiamo crescere, ma quando anche siamo grandi, siamo adulti, questa caseina, arrivando nell'intestino, tende a coagulare. Coagulando si va come ad appiccicare a livello della mucosa intestinale, creando una specie di colla. Ora, a questo punto, questa proteina coagulata, questa caseina che ha coagulato, è fortemente irritativa e infiammatoria per la mucosa intestinale. La mucosa intestinale immediatamente interverrà per difendersi. In che maniera? Creando una secrezione enorme, esagerata, di muco a livello della mucosa intestinale. Come ben sappiamo, l'intestino è collegato realmente da una parte alla pelle, e quindi da lì tutta una serie di problematiche di prurito alla pelle, di dermatiti atopiche in ogni parte del corpo. Dall'altra parte è collegato ai polmoni, quindi tutti questi muchi, a un certo punto, vengono smaltiti, immaginate così, anche un pochino a livello dei bronchi. E a questo punto abbiamo troppo muco nei bronchi, che va a risalire nel naso, e abbiamo come un tappo a livello del naso, sempre questo raffreddore, sempre questa colla, fino a poter migrare a livello delle orecchie e quindi dar vita alle otiti. E allora attenzione realmente anche a quel latte che viene definito ad alta digeribilità solo perché abbiamo eliminato da quel latte il lattosio. Il lattosio allora non è l'unico problema, dobbiamo fare attenzione anche alla caseina, che nel caso del latte animale, nel latte vaccino, abbiamo una concentrazione troppo elevata, ripeto, abbiamo una concentrazione dell'80% delle proteine. È un qualcosa di esagerato. Grazie dell'attenzione e seguite i miei consigli. Ciao!